Grande festa a Grosio per festeggiare i primi 60 anni di attività del salumificio Bordoni. Una serata all'aperto per le strade della città, dove tanti amici e clienti si sono riuniti intorno ai tavoli per festeggiare la passione per la carne che contraddistingue la famiglia Bordoni. Sono Giuliano Bordoni, la terza generazione della famiglia Bordoni, qua con me Chiara Bordoni, anche lei è la terza generazione della famiglia Bordoni. Una famiglia allargata che ha preso strade diverse, ma qua abbiamo voluto avere il connubio io e Chiara per fare qualcosa che a noi piace particolarmente, che è la passione della carne e la passione della cucina e l'abbiamo voluta mettere tutta in una serata, nella serata dei 60 anni della macelleria Bordoni. Un tripudio di carne per omaggiare sia i presenti che tutti coloro che non ci sono più, ma che hanno rappresentato molto per la famiglia Bordoni. Un menù speciale, dove la carne è stata declinata in piatti sopraffini, dalla carne cruda battuta al coltello di antipasto, emblema di Grosio, per poi passare a due costate di due razze diverse, un black angus e una rubia gallega. Insieme abbiamo unito le forze, penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro, l'affetto delle persone ce lo dimostrano. Una serata di festa, per celebrare la buona tavola e l'amicizia che lega Grosio alla famiglia Bordoni. Grazie a tutti!